Non siate qui. Non siamo lì. Vieni a prendere le ragazze. Devo restare con Woodrow. Dove siete? Asteroid City. Giovani astronomi e cadetti spaziali. Ogni anno festeggiamo il giorno dell'asteroide. Credo che alcune delle nostre informazioni sullo spazio profondo non siano più così esatte, ma ancora ci sono nove pianeti nel sistema solare, Billy. Ora però c'è un alieno. Che cosa succede? Non lo so. Non mi piace il modo in cui ci guardava un alieno. E come ci guardava? Come se fossimo spacciati. Forse lo siamo. Ho informato il presidente. Quanto possono trattenerci ad Asteroid City? Il mondo non sarà mai più lo stesso. Sono strani, è vero? I vostri figli. Rispetto alla gente comune. Sì. Esatto. È vero. Faccio una zona di nudo, vuoi vederla? Ho detto sì. Sì. Non so fast. Lo so presto. Grazie a tutti.